Ciao a tutti, sono il maestro Fide Alessandro Santagati e con questo video iniziamo una nuova serie legata ai finali alfiere. Ora nella posizione che vediamo il bianco ha un netto vantaggio perché ha un pedone e anche l'alfiere mentre il nero ha solo il re. Dobbiamo capire se il bianco può trasformare questo enorme vantaggio in vittoria vera e propria. In questa posizione a seconda di chi muova cambia il risultato perché dobbiamo capire che se il re nero riesce a portarsi all'angolo dunque su H8 sarà impossibile per il bianco costringere questo re all'andare via da qui perché interverrà fuori il difensore sempre dallo stallo. Possiamo fare un piccolo esempio di quello che ho detto, per esempio il nero avendo la mossa giocherebbe Rf8 dunque si porterebbe verso l'angolo e a questo punto non so proviamo che il bianco si avvicini con il re dato che non può più impedire la marcia verso l'angolo perché in teoria può arrivarci sia da G8 sia da G7, un po' il bianco magari potrebbe anche togliere G8 ma a quel punto va su G7 e poi su H8 dunque la sua marcia è inarrestabile. Immaginiamo che muovo il re, re G8 o re G7 uguale, re G5, re H8. La streggere del nero qui per pareggiare è molto semplice, basterà al nero rimanere nell'angolo e appoggiarsi o a G7 o a G8 col stessi casa vicina e poi tornare sempre su H8. Molto semplice ed è impossibile per il bianco evitarlo perché come ho detto prima ci sarebbe sempre lo stallo. Poi andiamo un attimo avanti, non so, re G6, re G8, io spingo il pedone e alla fine se spingo ancora il pedone è subito stallo, se muovo la fiera chiaramente sarebbe ugualmente stallo qui e se muovo il re, non so, indietro o da qualsiasi altra parte ho sempre la possibilità di appoggiarmi in altre ragazzi di tornare poi sempre sull'angolo, perché l'angolo è di colore scuro. Se avessi questa posizione con l'alfiere che anziché è chiaro essere scuro, allora diciamo la partita serve differente e il bianco riceve vincere. Adesso per esempio ho messo al posto dell'alfiere chiaro un alfiere scuro, se abbiamo questa posizione allora il bianco vince e in me è anche molto semplice, vince perché con l'alfiere che è un po' scuro è possibile calciare via i gradi all'angolo, infatti non so, dopo le g8, le g6 eccetera, io lo scacco, io devo andare via, h7, h8 donna e chiaramente questo finale è vinto per il bianco. Dunque quando abbiamo un pedone di torre dobbiamo stare attenti se il nostro alfiere è del colore dell'angolo di promozione o se è del colore opposto, perché se è del colore opposto allora se l'idea del difensore prende l'angolo sarà sempre patta, se invece abbiamo il colore, il nostro alfiere del colore dell'angolo allora a quel punto il nostro finale sarà sempre vinto diciamo. Questa è un'idea importante. Adesso torniamo alla posizione che ho mostrato all'inizio. Questa era la nostra posizione iniziale e abbiamo visto che se muovero il nero era facilmente patta perché il nero poteva arrivare all'angolo. Questo finale è patto però solo se l'idea del nero può arrivare all'angolo, se non riusciamo ad impedirlo allora possiamo comunque si evincere. Per impedire lo bianco di unitare la sua marcia diciamo verso l'angolo, marcia che diciamo si basa su queste quattro caselle che adesso ho coloro di giallo per distinguere per poi arrivare diciamo all'angolo e in maniera particolare, dato che io non posso logicamente impedire l'RF7 né l'RF8, almeno posso impedire al limite solo l'RF7 con l'RF6, diciamo un blocco totale del nero lo posso effettuare non tanto sulla colonna F ma in questo caso magari sulla colonna G. Però per bloccarlo devo sia controllare G7 che controllare G8. Allora G8 posso controllarla con l'alfiere, G7 l'unica possibilità che ho detto tramite il pedone che potrebbe apportarsi su H6 per poi diciamo difendere G7. Altro idea importante è che il re del bianco, scusate che il re del nero deve comunque sempre stare all'interno del quadrato del bianco, del pedone del bianco dunque se noi ci rifacciamo alla regola del quadrato, costruiamo il nostro quadrato, in questo caso secondo la regola l'abbiamo già visto in un video precedente che vi invito eventualmente a rivedere nel caso in cui non è chiaro, partiamo dalla casa in quel pedone e arriviamo fino alla fine, fino alla casa di proconozione dunque 4 e creiamo il nostro quadrato. Dunque sappiamo che il re è all'interno del quadrato e dunque sappiamo che il re tendenzialmente può bloccare il pedone. Se chiaramente le andasse via al quadrato, tutti i nostri discorsi, non qui ma qui, perché qui non può andare via via dal fiere, tutti i nostri discorsi sarebbero inutili perché basta spingere il pedone e andiamo al donna dunque non cambia assolutamente nulla. Perfetto, dunque detto questo, adesso muovo il bianco, dunque l'unico modo per bloccare entrambe le case, dunque sia g7 che g8 e fare come prima mostra il fiere 6. Non funziona subito h6 perché su h6 arriva l'f7 e a questo punto su al fiere 6 io posso semplicemente giocare da g6 e mangiarmi il pedone. Dunque così sarebbe subito patto, dunque è fondamentale qui scegliere anche il giusto ordine, dunque prima al fiere 6 che toglie f7 e g8, era l'unico modo per inseguire il pedone rf8. 6 re e7, allora io semplicemente faccio h6, se mangio al fiere chiaramente sarebbe fuori dal quadrato e dunque il bianco va a promozione, se invece il bianco, se invece il nero gioca rf6, allora a questo punto dobbiamo evitare la mozza rg6 e per farlo facciamo il fiere f5. Il nero non può prendere perché se il nero prende allora va da donna. Se il nero fare f7, qui dobbiamo fare un'altra mossa molto importante perché se il re riesce ad andare all'angolo allora diciamo che può sicuramente pareggiare, dunque per impedire re g8 e al tempo stesso anche impedire che il re possa andare su g6, l'unica mossa è alfiere h7. Se il f8 mi avvicinerà e poi riuscirò a vincere, se il f6 con l'idea di fare g5, io posso impedirlo tramite l'f4, il re dovrà andare via e piano piano migliorerò la posizione fino a che il mio re non si porterà su g7, toglierò il mio alfiere, spingo h7, h8 e vado a donna, dunque la partita è facilmente vinta a questo punto. Torniamo un attimo indietro per vedere altre possibilità che il nero può fare. Se per esempio, dunque dopo alfiere 6 il nero giocare f8, perché noi facilmente giocheremo h6, e a questo punto è molto interessante perché muovi il nero e questo è il quadrato del pedone. Il nero è dentro il quadrato, però ha una sola casa disponibile, tutte le altre sono controllate dal bianco, dunque dovendo per forza muovo e devo uscire dal quadrato, dunque se fa, non so, 3,7, ora è 8, non cambia nulla, io gioco h7, il mio pedone va facilmente a donna, dunque in entrambi i casi qui il bianco vince facilmente. Ricapitolando quali sono le idee importanti da ricordare. E' importante ricordare che con questo tipo di finale, se il nero si porta all'angolo, allora il nero può pareggiare facilmente. Però il finale pacco solo se il re o è all'angolo o può arrivare all'angolo. Nel caso in cui noi possiamo evitare sbarare la strada dell'avversario e evitare che lui possa andare all'angolo, allora a quel punto il bianco può vincere, diciamo, dunque questa è un'idea importante. Questo problema non si pone se noi invece abbiamo l'alfiere che controlla giolango, dunque si pone l'alfiere camposcuro, allora tutti questi discorsi non si pongo perché il bianco vincera sempre in maniera abbastanza facile. Perfetto, per questo video è tutto, vi ringrazio l'attenzione e vi do appuntamento per i prossimi, sempre legati a questa serie. Ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video. Grazie!